Il questore di Como ha vietato la manifestazione organizzata sabato pomeriggio da Forza Nuova. L'evento era in programma alle 17.30 in Piazza Vittoria a Como ed era stato convocato come risposta alla manifestazione indetta dal PD per la mattina dello stesso giorno. Forza Nuova tuttavia non ci sta. Inaccettabile, dice il responsabile provinciale Salvatore Ferrara, sabato saremo comunque a Como con il nostro segretario nazionale Roberto Fiore. Il no alla richiesta del gruppo di estrema destra è stato confermato direttamente dal questore di Como, Giuseppe De Angelis. La concomitanza con un evento di segno opposto, la cui richiesta di autorizzazione è pervenuta prima e con l'elevato afflusso di persone previsto per gli eventi natalizi, ci ha portato a considerare inopportuna questa manifestazione, ha spiegato proprio il questore. Entrambi gli eventi sono stati promossi in seguito all'irruzione, la scorsa settimana, di un gruppo di schinez a una riunione di Como senza frontiere, la rete che assiste i migranti. 13 i partecipanti al Blitz, tutti identificati e denunciati per violenza privata in concorso. Sabato mattina, a partire dalle 11, al Monumento alla Resistenza Europea a Como, il PD ha convocato una manifestazione contro ogni forma di intolleranza e razzismo. Molte le adesioni, tra le quali quelle del ministro dell'istruzione Valerio Fedeli e del segretario Demma Matteo Renzi. Forza Nuova, invece, aveva previsto un comizio, poi vietato dal questore, con Roberto Fiore, sabato alle 17.30 in Piazza Vittoria, sempre a Como. «Troviamo questo divieto assurdo», commenta Salvatore Ferrara, responsabile provinciale di Forza Nuova. «Il nostro comizio sarebbe stato sei ore dopo la manifestazione del PD. Non intendiamo sottostare a questi atti intimidatori e abbiamo tutto il diritto di manifestare le nostre idee e fare campagna elettorale, perché siamo un partito che si presenta regolarmente alle elezioni. Perciò, conclude il responsabile di Forza Nuova, noi sabato saremo a Como con Roberto Fiore. Come ancora non lo so, ma ci saremo».